salve a tutti watch kebari io sono super joe master ed oggi bentornati su plans vs zombies sono molto contento che la mia serie vi sta piacendo tantissimo e beh sono pronto a continuare questo gioco veramente molto molto bello nel scorso episodio abbiamo sbloccato l'enciclopedia suburbana che è quel libro che vedete sotto la scritta altre modalità e poi abbiamo sbloccato una nuova pianta l'ipno fungo e con adesso conteniamo i livelli notturni ho sbagliato a premere scusate ma che si parte perché ci sono queste cose qua ok casa di super joe scusate per le pubblicità ma non ho proprio voglia di spendere soldi non lo so ragazzi e dovete accontentare delle pubblicità però vabbè comunque allora mettiamo subitissimo in prima posizione il bellissimo buon porcino poi mettiamo il mal porcino il fun porcino la mangiatombe e anche la nuova pianta ipno fungo dopodiché mettiamo anche la spara semi e la spara brina quindi adesso direi di iniziare subitissimo la battaglia perfetto iniziamo wow 1 2 3 4 5 6 7 tombe abbiamo togliamo adesso il rastrello bonus e la ciletia esplosiva perfetto si inizia piantiamo adesso la prima pianta molto molto bene ora mettiamo anche l'altro ok io vi ricordo in questa in questi livelli notturni fate assolutamente due file di buon porcini cioè i funghi questi gialli perché è veramente una cosa utile ecco qui che arriva il primo zombie sta arrivando il primo zombie bene mettiamo adesso un altro di questi mal porcini è abbastanza difficile ricordarsi tutti quanti i nomi di tutte le piante perché alcuni nomi sono abbastanza simili come i buon porcini e mal porcini ok adesso arriva un altro zombie perfetto ora vediamo un po se riesco a fare due file dei buon porcini vediamo 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 meno male che qui abbiamo solamente un'orda di zombie quindi è perfetto quindi livello può durare anche non tantissimo ok ecco un altro ne manca ancora due e poi ci siamo mettiamo adesso mangia tombe qua mangia la tomba o la lapide vabbè tanto stessa cosa no insomma adesso 3090 monete attenzione con le monete si possono anche sbloccare le delle piante dei mini giochi perché io proverò a fare non solamente non solamente l'avventura nella modalità storia ma proverò fare anche la le parti extra i giochi extra e proverò anche comprarmi le piante perché alcune piante per sbloccarle li devi comprare nel negozio di devi il pazzo perfetto abbiamo messo adesso il bellissimo fu un porcino e ne mettiamo anche un altro vediamo un po cosa riusciamo a fare vediamo ok mangia tombe ok altri zombie stanno per arrivare sti maledetti zombie no uno zombie a ucci no cavolo il povero fu un porcino vabbè tanto adesso ne rimetto un altro mamma mia ragazzi che roba oggi sono andato al cinema e mi so oh no 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 mi serve mi serve l'ipno fungo subito no c'è il rick bista eh sì rick bista mi sa proprio che tu non riuscirai a farcela ipno fungo ipnotizza lo zombie e mandalo indietro oh sì l'ipno fungo serve tantissimo perché per come avete notato io ho posizionato l'ipno fungo davanti al rick bista e lui è tornato indietro è un'altra cosa i zombie che sono ipnotizzati dall'ipno fungo possono anche combattere contro gli zombie in pratica mi faccio entrare buoni no fungo vabbè e noi continuiamo ragazzi ora è arrivato il momento di ipnotizzare anche quest'altro zombie ipno fungo troppo bello ragazzi l'ipno fungo è troppo bello molto bene ora mettiamo un altro dei fu porcini c'è ancora un buon porcino che è piccolo se notate quello nel in basso la parte finale no ho sbagliato a mettere peccato mangiamo mangiamo le lapidi belle ok vai monetina 3130 monete perfetto ipno fungo su questo zombie molto bene oh yeah gli stacchiamo la testa ora mettiamo adesso un altro dei fu porcini mamma mia quante bollicine sapete sapete che sapete che il cappello il fungo il cappello dei fu porcini sembra quei quei cuscini sapete che cuscini che ci smette che ti metti sopra e fanno la puzzetta sapete i cuscini brubruf sapete quelli tipo per fare gli scherzi una roba del genere sono tipo come quelli allora zombie recbista devo per forza mandarti via διαicano come faccio no cavolo no 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 e mo come faccio e mo come faccio ragazzi non ho il ipno fungo no ragazzi io no oh no 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 Maledetti, no, ragazzi, ragazzi, forse perdiamo, no, ragazzi, la prima sconfitta, no, vattene, sei troppo vicino alla casa, oddio, ah, non ho, ah, è vero, che stupido è vero che non, ok, allora, ce l'abbiamo fatta perché c'era ancora il taglierba, per contattare gli zombie, il regbista e l'altro zombie sono arrivati a taglierba, il taglierba l'ha visti e li ha eliminati, Ma quando poi il taglierba va avanti, poi alla fine non si potrà più rimettere, quindi state veramente molto attenti Abbiamo sbloccato una nuova pianta, questa pianta, che bisogna usare 25 soli per posizionarla, si chiama porcino tiratore, colpisce i nemici distanti e si nasconde quando sono vicini Ebbene, ragazzi, ammirate Sì, la pianta, forse la pianta più inutile di Plants vs Zombies Perché? Beh, per il fatto, come deve venire capito, il nostro caro porcino tiratore, voi lo piantate nel campo, ma lui colpisce i zombie quando sono distanti Quindi, ma quando i zombie si avvicinano, ma non dico tantissimo a lui, ma quando i zombie si avvicinano, lui si nasconde, così gli zombie lo possono uccidere Capite, ragazzi, cioè, è inutile, è una pianta, non lo so, è un fifone, non lo so, ragazzi, ma noi dobbiamo comunque utilizzare Ok, vai, andiamo Ho notato che abbiamo ancora lo zombie recbista, quindi bisogna stare attenti Togliamo adesso i due cose odiosi, perché l'hanno messo, non lo so E va, mettiamo in campo il porcino tiratore, va Mettiamolo in campo Vedete com'è? A me, sinceramente, come pianta non mi piace Ok, abbiamo due orte di zombie, quindi quanti noti siamo per... siamo già otto minuti, wow Ok, zombie primo, perfetto Ora noi l'elimineremo, ma sì dai Adesso voglio provare a fare solamente una fila di buon porcini, ci voglio provare Anche Santa sarebbe molto più giusto fare due file di, come si chiama, sì dai buon porcini Ok, aspettiamo un po' Adesso un altro, perfetto Oh yeah Monetina, presa Ok, ah giusto, è vero Il porcino tiratore Ecco, vedete che adesso il porcino tiratore sta attaccando Vedete, sta attaccando lo zombie da lontano Mentre invece il mal porcino attacca i zombie solamente quando sono vicini E un'altra cosa è che se lo zombie sta per arrivare al mal porcino che sopra è il porcino attiratore E il porcino attiratore si nasconderà lo stesso È un fifone Vediamo, eh, se riusciamo a far tutto per bene Ti prego, caricati Perfetto, abbiamo finito Allora, mettiamo adesso, vediamo Vediamo adesso un Non lo so, sapete Qua mettiamo il porcino tiratore Oh mio dio ragazzi, mi sa proprio che non ce la facciamo con lo zombie segnaletico Come facciamo? Hypnofungo ovviamente ragazzi Hypnofungo risolve tutti i nostri problemi Oh yeah Vai così, perfetto Mi serve adesso il Fun porcino Please datemi fun porcino all'istante Se no mi arrabbio come non so cosa Fun porcino Oh Guardate I due zombie si stanno mangiando E lo zombie segnaletico ha vinto Perfetto Vediamo un po' cosa riusciamo a fare Oh mio dio Ok Vai con un altro fun porcino Perfetto Un'altra cosa è che sto registrando questo video di sera Non so se lo caricare oggi o domani Ma Vabbè Tanto Va niente Manca ancora veramente tanto da arrivare all'orda di zombie Mamma mia È una roba proprio assurda Oh Ah giusto Le tombe mi sono dimenticato Che stupido Mamma mia Ok Perfetto Siamo adesso a 70 Soli Mamma mia Mamma mia Vai Fun porcino attack Vediamo adesso se riusciamo a farcela Ho un po' paura di perderla Perché non sta andando molto bene Erano meglio due Erano meglio due file di bon porcini Dannazione Ok Vai che adesso terminiamo questa fila E mi servirebbe Perfavore Il Fu un porcino O forse no Non so Ma non lo mettiamo comunque No Ecco Aiuto 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 Escono dalle tombe vero Non escono dalle tombe È vero che nella prima ordine di zombie Non escono dalle tombe Escono dalla seconda Però dobbiamo eliminare Questa Tomba Perché è la più vicina Ok Proviamo a vedere un po' Quanto riusciamo a fare Mamma mia ragazzi Che roba Io non so Non so se voi vi state annoiando Ma io sto cercando di Non farvi annoiare troppo Vai Fu un porcino Attack Per me il fu un porcino È la miglior Pianta Dei livelli notturni Secondo me Ecco Un'altra cosa ragazzi Che No no Scusate Non volevo dire niente Vabbè Ascian perdere Va Ah ecco Mi sono ricordato Ecco Un mio iscritto Che Adesso non mi ricordo bene Come si chiama Perché sono un po' stanco Ha iniziato una serie Su Plants vs Zombies E quindi Io vi lascio il link In descrizione Del Del suo canale Per vedere I primi episodi Lui ha detto Che ne farà tutti quanti episodi E Vedremo un po' Se lui sarà Molto più bravo Di me A giocare a questo gioco Ma sinceramente Non lo so Però vabbè Noi continuiamo adesso A eliminare Un paio di zombie Nel frattempo Hypno fungo power Siamo a 14 minuti Ok Pensavo di più Sapete Pensavo che eravamo Già 20 minuti Cavolo Vediamo un po' Se riusciamo A vincerela Io sinceramente Non lo so Ma spero tanto di sì Perché Prima Nella battaglia precedente Stavamo quasi Per perdere Ma per fortuna Ci sono I Italia e roba Ecco Perfetto Perfetto Bollicine Cavolo Una marea Di bollicine Perfetto Ok Ok Vai mettiamo Ma si dai Il porcino Tiratore Così vediamo Guardate Adesso lo zombie Arriva Vedete lo zombie Adesso si nasconde Perché uno zombie È vicino a lui Guardate Si nasconde Il povero Poverino Mangiatombe Mangia bene Ecco Una cosa Molto importante Che non so Se l'avevo già detto La mangiatombe Si può usare Solamente Sulle tombe E basta Ok Adesso Possiamo adesso Mettere un altro Fun porcino Mangiatombe Ora arriviamo Alla fine Questi dovrebbero essere Gli ultimi Due zombie Prima dell'orda finale E Nell'orda finale Vedremo Lo zombie recabista Non mi ricordo Se c'è lo zombie recabista Sinceramente Non me lo ricordo Beh Vedremo Vedremo Ragazzi Vedremo Oh mamma mia Che roba Monetina Perfetto Ok Moneta Oh yeah Tutto Perfettamente Bene Non manca Molto Tranquilli Eh ma Ma veramente Ragazzi Scusate se lo dico Ma questa battaglia Sta durando Fin troppo Sta durando Fin troppo Questa battaglia Ma è troppo lunga C'è a differenza C'è a differenza C'è raga Io vi dico Nei livelli Quelli di giorno I primi livelli Del gioco Le battaglie Erano molto Più veloci Qui Qui I zombie Vanno lentissimi È una roba Assurda Davvero Ora Per favore Eliminiamo Quello zombie Please Così Finiamo anche Questa battaglia Ti prego Ecco Orda di zombie Prepariamoci Let's do this Let's go Ok Lì ci sono solamente Due Vai Ecco Lo zombie Rick Bista Ok Lo zombie Rick Bista Vai 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 Zombie Rick Bista Zombie Rick Bista Mi serve Per favore L'ipnofungo L'ipnofungo Mi serve No 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 L'ipnofungo Mi serve Il zombie Rick Bista Inarrestabile Ok Aspettate un attimo Vieni qua Bello Morati Ipnotizzo Watang Ultra Potente Veramente Lo zombie Rick Bista È molto resistente State veramente Attenti E mi sa Proprio Ragazzi Che abbiamo Finito E abbiamo Sbloccato Nuova pianta E bisogna usare 75 soli Per posizionarla E si chiama Brimporcino Immobilizza Temporaneamente Tutti i zombie Sullo schermo Allora In pratica C'è un'altra pianta Che Congela i nemici Cioè la Sparabrina Però Sparabrina Congela Solamente I zombie Che sono davanti A lei Mentre invece Il brimporcino Quando tu lo posizioni Congela Tutti gli zombie Ed è Ultra potente Però adesso Non andiamo A livello successivo Ma andiamo Adesso al menu Ok ragazzi Quindi Questo è tutto Per questo Quinto Episodio Di Plants vs Zombies Abbiamo sbloccato Due nuove piante Il porcino tiratore E il brimporcino Quindi Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Alla prossima Ciao 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 Ciao